Oggi la gente è sempre più ignorante, non se ne può più di questa ignoranza dilagante, ma è davvero così o è soltanto una percezione? Lo analizzo da tre punti di vista diversi. Il primo è che oggi abbiamo a che fare, complice internet e i social, con molta più gente rispetto a soltanto qualche anno fa. Faccio un esempio concreto. Qualche anno fa, nell'epoca pre-internet, io facevo un gioco nel mio lavoro dove facevamo l'elenco di tutte le persone che conoscevamo. E mi ricordo distintamente che moltissimi avevano difficoltà a mettere insieme 50 persone, di cui magari avevano un contatto, che so, sul cellulare, pochi arrivavano a 100, praticamente a 300 persone non ci arrivava nessuno. 300 persone! Oggi chiunque ha centinaia, se non migliaia di contatti attraverso i social, e fra questo enorme numero di persone con cui abbiamo contatti bene o male, chiaramente ce ne sono tantissime, per una questione statistica, che sono ignoranti. Secondo punto è l'attenzione che oggi c'è alle fonti. Anche per questo faccio un esempio concreto. Qualche anno fa, epoca pre-internet, stavo facendo un corso di motivazione e lo speaker tirò fuori uno studio secondo il quale, preso un bicchiere d'acqua e scritta sopra una frase, quest'acqua e le molecole di acqua al suo interno, una volta ghiacciate, si univano con delle forme totalmente diverse in base a quello che su quel bicchiere era stato scritto. Quindi delle forme molto più irregolari, se c'erano scritte frasi positive, tipo ti amo, sei molto bello, forme molto più irregolari se le frasi erano di tipo negativo, ti odio, sei brutto e via discorrendo. Oggi, sappiamo perfettamente che questa è una bufala, la differenza è che allora non c'era la possibilità di andare a controllare, e magari quella cosa detta in quel contesto dove si parlava di comunicazione poteva avere anche senso. Oggi, chiunque provi a sparare una roba del genere durante un corso vedrà la gente alzarsi e andarsene. Stessa situazione, reazione totalmente diversa. E il terzo punto è l'analisi della realtà che noi abbiamo, cioè, fino a qualche anno fa, noi valutavamo la realtà in base al mondo circostante, le persone che conoscevamo, il nostro paesino, la nostra città. E il luogo dove vivevamo era proprio quello, cioè, valutavamo il mondo in base alle conoscenze della nostra città, e il nostro mondo era la nostra città. Oggi, noi valutiamo il mondo esattamente nello stesso modo, cioè, in base alle nostre conoscenze, alla nostra città, alla nostra ristretta cerchia. Ma il mondo nel quale viviamo è il mondo. Si è enormemente allargato. Quindi, prima c'era congruenza fra metro di valutazione e oggetto valutato. Oggi, il metro di valutazione, il nostro paesino, non va più bene per l'oggetto che valutiamo, che è il mondo. Quindi, davvero siamo più ignoranti oggi rispetto al passato? Sì e no. In realtà, la cultura media delle persone sta aumentando, però sta aumentando troppo lentamente rispetto a quello che ci viene richiesto.